Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua casa a Rovellasca, provincia di Como, dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione dei vicini riguardo ai rami della sua villa che invadevano il loro giardino. La morte della donna, avvenuta circa due settimane fa, secondo i primi accertamenti medici, è rimasta inosservata poiché nessuno si era accorto della sua assenza. I vicini avevano notato la posta accumularsi senza essere ritirati e hanno deciso di contattare le autorità solo dopo l'invasione dei rami. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e croce azzurra, la donna è stata dichiarata morta per cause naturali. La scoperta della sua morte è avvenuta troppo tardi per poterle prestare soccorso.